a a a a a incredibile bella bella buh mi sei paianoico eh no no per carità non credevo dai ma veramente eh vai vai che fanno 1500 chips ma io non capisco cosa sta succedendo ragazzi si facciamo uno screen in posa figlia con la maglia dei pokemon lol grazie grazie ragazzi no più sotto più vicino allo schermo esatto quarto mese porco cazzo ferralore ha fatto il pazzo porco cazzo porco cazzo ferralore cazzo fai ferralore spara però sta merda fai solo quello porco giro ragazzi stai kill vi prego fai 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 solo quello fai a zappare fai a zappare fai a zappare fire cazzo fai 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 Grazie mille, grazie mille Io mi immagino ragazzi a chiudere la vera che rientra in casa così col sacco proprio pieno Arriva in casa così troppo Così proprio arriva Che non so proprio dove metterli Arriva entra in casa Pami stasera siamo pieni Grazie mille Miseria, che botte che è andato Qua invece devo prendere, si, beh, andiamo, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, porca droia, che è, che è, che è, ho appiato il muro fratelli, no, che è, no, no, oddio, ok, buono, andiamo, 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 di qua, seguiamo la strada, seguiamo la strada, oh, il camera, oddio, oh, seguiamo la strada, bellissima la strada, va bene, No, questo mi ha scritto testare, allora, telefona gli e digli, puttana di merda, quel scoglione di merda non c'è, aspetta, 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 oh, ci spreghiamo sotto, fuori, porco Sotto, 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 credo, mi ha messo il muro in faccia dentro l'entrata, bene, a meno che gli altri non sono scesi a factory, eh, sì, li spacchiamo, non scesi veramente in ritardo, sono degli avvoltoi, incazzati neri stasera, il lollo, il pazzo, no, 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 sono incattati neri, no, no, sono incattati neri, il delitto smola alle 3.000, Io ho infatti con le 5.000, no, io, io, ragazzi, ci lascio le penne qua, Io, ragazzi, ci lascio le penne, io, ci lascio, io, ci lascio, io, ci lascio le penne, E' qua, oh, bianco, bianco, morto, easy, no, F, io non so cosa è successo adesso, No, F, F, non so cosa è successo, F, ragazzi, clipatela questa perché merita, Ho un medica, ma sto più tra noi, immagine, Tu, Filo, che curi hai? Mi conviene fare il medica, non morire, poi voi mi lasciate, possiamo restarci in realtà però mi sa che non ci arriviamo noi siamo ci restiamo ci restiamo ci vai mica poi mi dico zero maz porco dio e scuola ma mi dice la facciamo arcadino e arcadino e arcadino e arcadino e arcadino e ora tu mano 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 tutto bene ma no no scusate ragazzi scusate non solo ti do a mantenere la calma con zorial scusate ragazzo scusate ma il motoscavo ma che cavolo ha fatto sto motoscavo è volato andiamo ricordi quella cosa che ti avevo detto di freddy del dark marco dio e adesso cambiamo mario camsing al godebord Volevi Sa cantare ma lo canti ma cosa sta dicendo Ma che cazzo lo canto Non mi serve la base Non ce l'ho Faccio 3, 2, 1 Alleluia Alleluia Piollo il pazzo Porco cazzo Alleluia Grazie Piollo Grazie delle 10.000 Alleluia Grazie mille E andiamo Piollo Ma aveva detto prima che li aveva finiti Aveva detto erano più di vizio Ma aveva detto Quanto sbaglio Ma quanto tempo c'è Ancora per l'altro Grazie mille Grazie mille Grazie mille